E poi realizzazione dagli 11 metri di Ciananoglu, Frosinone che comunque ha giocato bene a San Siro alla Meazza in un campo molto difficile, tenendo anche spesso il pallino del gioco. Perde palla qua il Frosinone, Sabelli subito dentro, Puskas sulla linea al salvataggio di Turati, dopo nemmeno un minuto prima palla goal per il Genoa. Ma si è divorato, la chance dell'1 a 0 Puskas, errore in fase di ripartenza da parte di Barrene, c'è Aucoli e poi Turati, in qualche modo la tengono lì.